Ciao a tutti! Nuovo book tag! Un book tag che ho visto sul canale di Nadia Z, la lettrice solitaria. Vi lascio qui, nell'info box, il video di riferimento. Lei ha chiamato questo book tag June Book Tag, cioè il book tag di giugno, ecco. Io arrivo in ritardo, anche se mi piacciono molto le domande. Sono molto standard, in verità, però ci stanno le domande così, un po' più generiche, sul mondo dei libri. E quindi ho voluto rispondere, anche se è luglio, perché sono trasgri, naturalmente. Iniziamo! Libro con cui hai versato più lacrime. Assolutamente La ragazza di Bubba e di Carlo Cassola, che non è il libro più emotivo che io abbia mai letto, ma senza dubbio è l'unico libro che mi ha fatto scendere le lacrimucce. È proprio emozionante, commovente, è una storia di grande umanità, di amore, ma soprattutto il ritratto di una protagonista leggendaria, cioè iconica, rimane impressa nella mente per la sua forza, la sua forte maturità, il suo cambiamento. È un racconto di formazione, prima di tutto, che si incide bene nella pelle. E quindi... e fa piangere, ve lo consiglio. Ne ho parlato, eh, poi. Vi lascio la recensione nell'infobox. Seconda domanda. La storia in cui hai rivisto te stesso? Mmm... ma che fare? Che dire? Non lo so, ragazzi. La storia in cui hai rivisto più te stesso. Io credo... Tutto quello che non ricordo di Chiemiri, anche di questo libro vi ho parlato, perché... non lo so, il fatto che questo ragazzo archivi tutto quello che vive per temere di dimenticarlo, in un certo senso mi ha ricordato il processo creativo in quello che scrivo e realizzo io. Ed è un libro in cui mi sono rivisto, per quanto sia un libro originale e strano, sotto certi aspetti. Per i periodi più bui della mia vita, io rivedo me stesso nel protagonista di La nausea di Sartre, naturalmente, e sono tanti i libri in cui li vedo me stesso, ma non ho mai letto un libro che mi rispecchi al 100% per come sono io, nel senso... è una cosa che capita molto più spesso nei film, nei libri... nei libri raramente. Cioè, ci sono degli spiragli qua e là. Non so se a voi capita. Comunque, vabbè. Hai mai abbandonato la lettura per un lungo periodo? No, no, non credo. Io leggo sempre un libro dietro l'altro, ma non perché mi forzo, ma perché ho talmente tante cose che voglio leggere che mi ritrovo sempre con un libro in mano. Non ho mai avuto crisi del lettore lunghe, perché crisi del lettore significa semplicemente che hai voglia di fare altro anziché leggere. Però non mi è mai capitato di stare troppo tempo senza un libro, massimo due o tre giorni, massimo. Il più apprezzato regalo libroso? Sono tanti. Per quanto riguarda regali, non deve essere necessariamente un libro che ti piace, ma può essere anche, alzi meglio, un libro che non conosci e che ti regalano, e che però rispecchia te in quel momento. Quanto meno vedi che è un regalo estremamente pensato. Quindi mi viene da nominarne tre. Allora, uno è Infinite Jest di David Foster Wallace, che in verità è un libro che mi hanno regalato dopo che ho fatto una testa così a tutti, dicendo, sarà mio, costa troppo, sono povero. Invece dopo me l'hanno regalato. Un secondo libro è Le favole di John de la Fontaine, che mi hanno regalato in quest'edizione. Ve la faccio vedere. È qui di tanto. Questa edizione è in Audi, tipo da collezione, per la laurea me l'hanno regalato. E mi è piaciuto molto come regalo, perché è il libro che va tagliato con il taglierino. Le pagine vanno tagliate col tagliacarte e la trovo una cosa molto bella, molto azzeccata per la laurea poi. È un altro libro che ho sentito mio quando mi hanno regalato, è il libro di Poesie di Flavia Vento, che me l'ha regalato la mia migliore amica. Assolutamente. Il trash nel sangue. Libro che ha intenzione di leggere, ma che non ha ancora tra le mani. Tantissimi. Tantissimi. Allora, Tony and Susan di Austin Wright. Infinite Jest di David Foster Wallace. Il corpo che vuoi d'Alexandra Kleeman. La trilogia, perché ne ho tre, in realtà sono sei. I libri, quelli lì di Nausgard, La mia lotta, che devo tenermeli per l'estate. Anima di Muawad. Drive-In di Lansdale. E questi sono solo alcuni, ma ho una lista infinita. Aiuto. No, che non ha ancora tra le mani, però questi sono tutti nella mia libreria, in verità. Che non ho ancora tra le mani. O, tre puntini, di Philippe Gian. Sì. Che è il libro da cui è stato tratto il film El di Paul Verhoeven. E quello. Quello. E poi... No, per ora quello, che non ho proprio neanche tra le mani. La tua libreria segue un criterio o i libri sono in un ordine sparso? Ha! Allora. Sono in ordine, ma allo stesso tempo in un ordine sparso, perché non ci stanno più. Li divido in settori, quindi non seguo... A me piacerebbe, in realtà, anche se... Però è orribile esteticamente, ma è più figo, dividere in ordine alfabetico. Come fanno nelle librerie. Il problema è che dopo vedi le edizioni diverse, fa un po' schifo. Allora, io divido per letterature, nel senso, da una parte, i classici, e i classici stanno tutti assieme. Dall'altra parte, letteratura americana, letteratura scandinava, letteratura asiatica, letteratura italiana. li divido così, e poi ho il settore arte, da tutt'altra parte, e il settore saggi. E poi, in realtà, dove ci sono dei buchi, infilo altri libri che non c'entrano nulla. Perché, ragazzi, quando cambio casa, io voglio... Piuttosto... Non dormo per terra, ma faccio una stanza solo di libri. E basta. Ok. Se potessi vivere all'interno di una storia, quale sceglieresti? Io sceglierei un luogo... Allora, o, come sapete, la schiuma dei giorni di Boresviana, perché è questo luogo così surreale, onirico, vi ho già letto migliaia di volte che io voglio viverci dentro, oppure io vivrei, non ho un libro preciso, ma vivrei in un libro di Murakami, ma di quelli assurdi, grotteschi, tipo Kafka sulla spiaggia. A me piacerebbe vivere in quelle... in un sogno, e quindi assolutamente sì. Sì, Murakami e Boresviana. Compri in libreria o online? Entrambe le cose, anche se la libreria ti dà più soddisfazioni perché andare a casa, quando vai a fare shopping, andare a casa col sacchettino, che tu sei proprio in coda alla cassa, paghi, ti danno il sacchettino, che figata, figlio del consumismo, orribile quello che ho detto, però è proprio liberatorio, e quindi il negozio ha quel qui di in più, però in verità anche online, perché si risparmia, perché è indubbiamente comodo, e quindi un mix delle due cose. Hai mai comprato un libro solo per la copertina? Allora, no, nel senso che mi è capitato di leggere un libro perché la copertina mi attraeva, ma preso in biblioteca, spenderci soldi? No, io spendo soldi solo per autori che io so che mi piacciono, oppure perché sono libri che voglio leggere da una vita, sono talmente lunghi che in biblioteca non ha senso prenderli perché dopo devo riconsegnarli, e devo leggerli di fretta, invece io ho bisogno del tempo per godermeli. No, la copertina è un buon impulso per la curiosità, ma non determina il fatto che io legga il libro, e quindi assolutamente no, sono molto parsimonioso, anche se non sembra. L'ultima domanda è presti mai i libri? No! No! Tutti voi dovete imparare a non chiedere mai a un lettore di prestarvi un libro. È una cosa che ci manda in bestia, perché dopo non tornano indietro. Poi è proprio brutto vedere il buco in libreria. Non si fa, non si fa, ragazzi, imparate, esistono le biblioteche pubbliche. Ecco, ci sono tre persone sulle dita di una mano di un monco a cui presto i libri, ma perché o me ne prestano in cambio o so che entro un tot me li ridanno. Punto. Cioè, se qualcuno mi presta un libro e che posso tenere come ostaggio, allora va bene. Altrimenti, no, è una cosa bruttissima e qua mi infervoro proprio. I libri non si prestano. O meglio, no, è vero, io sono così, io sono molto geloso dei miei libri. Fatemi sapere cosa fate voi. E detto questo, il book tag è finito. Fatemi sapere anche le vostre risposte o se avete un canale YouTube siete liberissimi di farlo, anzi, sono curioso di sapere cosa ne pensate. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.